Sì, il Carpi si è dimostrato una squadra molto solida, forse noi abbiamo pagato la prima partita che ci ha fatto un po', siamo partiti un po' col freno a mano, c'è stato inizialmente il break iniziale però poi loro avendo giocato anche ieri forse avevano già corsa nelle gambe o spezzato il fiato già da ieri, noi siamo arrivati, forse il primo caldo e il clima anche ci ha un po' destabilizzato. però meriti al Carpi e noi ci dobbiamo mettere la testa sotto e domani cercare di provare a vincere almeno di due perché il Carpi ha perso di uno con Torri ieri e dobbiamo dare il massimo perché ho dentro e fuori domani. Sì, siamo contenti perché è arrivata una risposta importante dalla squadra, sapevamo che era una possibilità, one shot one kill, siamo stati bravi fin da subito a impattare bene la parte, e adesso la semifinale, non ci interessa contro chi giocheremo, daremo tutto per tutto e daremo fine alla morte.